Torna a infittirsi l'agenda del Consiglio regionale, che tra qualche giorno si rimette a regime dopo il sostanziale stand-by di questa settimana. Con ogni probabilità, mercoledì il presidente Filippo Mancuso riunirà la conferenza dei capigruppo per calendarizzare la prossima seduta dell'Aula, che dovrebbe tenersi tra una decina di giorni. Nei prossimi giorni si riunirà la seconda Commissione Bilancio, che dovrebbe approvare l'ultima Omnibus e la legge che istituisce l'Agenzia regionale per l'energia. Due testi che potrebbero approdare nel prossimo Consiglio regionale, insieme alla legge che istituisce la Redigit Spa, la società in house della Regione sul digitale. Potrebbero essere ricollocati qui i lavoratori dell'Abramo Customer Care dal 1 novembre in cassa integrazione e per i quali è calendarizzato un incontro al Ministero per il 6 novembre. Poi l'attenzione sarà rivolta alle due commissioni in programma giovedì. La prima, Affari Generali, e la quinta, Riforme, perché all'ordine del giorno ci sono le due autoriforme messe in cantiere dalla maggioranza di centrodestra. Si tratta dell'introduzione della figura del Consigliere regionale supplente e la proposta di modifica dello Statuto, che pone un limite al numero degli assessori esterni in giunta, massimo il 30%, massimo 2 in una giunta ad 8. Le due proposte sembrano avere una corsia preferenziale nelle intenzioni della maggioranza. Da ricordare che il 5 novembre scadono i termini per gli emendamenti e dunque le due commissioni approveranno i testi per farli arrivare in Consiglio regionale, anche se la modifica statutaria sugli assessori esterni richiederà una doppia lettura. Nell'agenda del Consiglio regionale non solo autoriforme, infatti martedì prossimo si riunirà la terza commissione sanità e mercoledì 6 novembre la sesta commissione agricoltura.